ciao e benvenuti su sai che web tv in una nuova puntata di sai che prima di tutto un buon tutto da valeria donato e io pino ciao a tutti salutiamo anche i nostri collaboratori sebastiano arianna e sarah pino che cos'è sai che il sai che è un programma di video servizi informativi che con interviste a professionisti o cultori hobbisti di utilità e informazione popolare come ad esempio usi e costumi arte cultura storie tradizioni del nostro territorio e tante curiosità in generale se avete da suggerire o raccontare un vostro sai che contantateci e prenotiamo subito una pre intervista iniziamo con un sai che è dedicato al tempo libero come costruire un piccolo aquilone fai da te come che materiale occorre per costruire un aquilone come farlo volare molto interessante ce lo spiega passo per passo nel particolare leo rinaldi presidente del team via convento di castanagrotte però però vi ricordo che di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati sui video che noi postiamo e soprattutto con il campanellino con il campanellino esatto e poi vi salutiamo tutti ci vediamo al prossimo sai che però per ora sai che può interessare o coinvolgere anche te ciao oggi ci troviamo in compagna del signor leo rinaldi ciao buongiorno presidente dell'associazione team via colvento di castellana grotte ecco oggi leo ci mostrerà tutti i passaggi di come viene realizzato un aquilone infatti la prima domanda che ti faccio leo come viene creato un aquilone se è semplice oppure abbastanza complesso allora tutti gli aquiloni sono abbastanza semplici da realizzare chiaramente bisogna capire un po le le tecniche e quindi la realizzazione dell'aquilone diventa facile dopo che una prende queste piccole accortezze quindi passiamo a a vedere come viene realizzato un aquilone allora basta prendere un pezzo di foglio di carta possibilmente se è plastificato è meglio perché dura più nel tempo prendendo un foglio rettangolare con delle misure di 44 per 78 di larghezza il il foglio viene suddiviso in tre parti dalla parte del 44 praticamente viene piegato in tre allora il primo il primo spezzone che viene diciamo misurato bisogna tagliarlo in maniera diagonale e dare la possibilità di farlo diventare un un aquilone a rombo questo sì questo fa dalla possibilità all'aquilone di avere una sua ampiezza alare noi oggi stiamo realizzando uno sled un piccolo sled facilissimo da far volare e nello stesso tempo abbastanza facile da realizzarlo quindi ci vuole poche attrezzature quindi un foglio di carta due piccole stecche che possono essere stecche da fioraio oppure stecche da barbecue un po di scotch del filo che si deve realizzare sia per l'imbragatura dell'aquilone e sia per farlo volare e poi un questo è un piccolo nastro da regalo facilissimo da recuperare per creare la coda dell'aquilone che è abbastanza l'importanza per farlo volare farlo diventare stabile quindi noi incominciamo a creare l'aquilone oggi c'è il vento che ci sta aiutando però quando ci sono queste fasi ha bisogno di un po' di spazio in più allora si prende un po di scotch una volta tagliato l'aquilone alle misure che vi ho detto bisogna fermare le stecche quindi con lo scotch diamo la possibilità alla stecca di rimanere bella ferma quindi si dà la prima possibilità allo scotch all'altro pezzo si fa prima questa fase per bloccare le stecche quindi non vanno non si spostano prima della della finale della realizzazione dell'aquilone una volta fermate le stecche con i quattro punti si può realizzare la chiusura definitiva quindi mettere uno scotch un po' più grande allora abbiamo iniziato a fare la sua steccatura dell'aquilone allora si prende un piccolo filo che basta anche quello da cucito da che c'è la che uno c'ha la mamma allora il filo questa è la lunghezza normale intorno a un metro si prendono le punte dell'aquilone e si fa un un doppio bordo per far sì che il filo viene bloccato correttamente ora la stessa cosa si fa dall'altro lato giriamo lo scotch così diventa ancora più stabile ora si prende si uniscono le due punte dell'aquilone già volvolare si prendono le due punte dell'aquilone e si crea il baricentro dell'aquilone che sarebbe questo qui si fa un piccolo nodo questa viene chiamata briglia dell'aquilone e qui viene agganciato il filo dove lo facciamo volare ora è rimasto da mettere la coda questo come vi ricordavo è un semplice nastro da pacco viene sistemato dove finiscono le due stecche lo scotch per rinforzarlo lo scotch per rinforzarlo ora è rimasto coi E ora si prende l'altro filo, chiaramente io ho usato un colore diverso per dare la possibilità di capire le due differenze di filo, allora questo filo viene agganciato alla briglia e l'aquilone è pronto, il bello di questo aquilone è che se dovesse cadere e rompersi sempre con lo scotch c'è la possibilità di farlo, di ripararlo senza avere spese ulteriori quindi economico, facile e un aquilone che vola Ecco adesso ci sposteremo così Leo ci fa vedere come far volare l'aquilone Allora ci mettiamo dove c'è più spazio, quindi dove non ci sono turbolenze di vento Allora l'aquilone ha bisogno sempre di avere il vento alle nostre spalle e quindi farlo volare è un gioco Allora quindi vi auguro un buon volo a tutti e di realizzare tanti piccoli aquiloni e di fare una piccola manifestazione tutti insieme quindi speriamo, grazie a te Leo, speriamo come sempre che i suggerimenti che vi ha dato Leo vi siano piaciuti e soprattutto vi siano stati utili, sai che può interessare o coinvolgere anche te ciao, arrivederci ciao